buongiorno signori oggi vi racconto una storiella che lunga 48 anni e che ha come titolo abita gente in movimento allora cosa capita vedete se voi avete un immobile che volete vendere il tempo è determinante ma se tu vuoi vendere quell'immobile velocemente chiaramente analizzando quelle che sono le dinamiche del mercato cos'è che devi fare devi dare visibilità al tuo immobile e qui parte la storiella che vi voglio raccontare oggi oggi non vi parlo del biellese territorio straordinario ma vi parlo di persone straordinarie che adorano il loro lavoro ma prima di partire su questa cosa iscrivetevi al nostro canale youtube attivate la campanella così sarete sempre avvisati di ogni iniziativa e sappiate che ci trovate su tutti i social oramai siamo presenti ovunque ed è parte della storia che vi racconto oggi vedete capita questo nel 2018 io e mio figlio stufi di fare la solita campagna pubblicitaria decidiamo di fare dei video il primo video che facciamo era la villa di un chirurgo e la villa era situata in ponderano noi partiamo andiamo a fare quel video ci diciamo guarda se questa villa viene vista da 50 da 100 persone è un successo perché con i giornali nelle vetrine di cui adesso vi parlerò purtroppo non si arrivava a coprire una certa fascia di pubblico bene quel video ci allarmò perché fu visto da 5.000 persone allora partimmo andammo a fare il secondo video e quel video benché ci siamo detti guarda se anche questo viene visto da 5.000 persone un dato eclatante quel video venne visto da 40.000 persone e la villa in questione era villa biglia pensate che grazie a quel video riuscimmovi a vendere quella villa a un architetto della Bocconi che lei sarebbe andata a comprare sul lago di Como visto quel video visto il biellese venne nel biellese compro questa villa di cui tuttora è molto innamorata secondo video 40.000 visualizzazioni il tema di questo video saranno i numeri le visualizzazioni ma proseguiamo a quel punto io in quegli anni lì cercavo costantemente una vetrina cercavo un negozio che avesse vetrina per poter avere visibilità non solo investivamo tantissimo tantissimo sui giornali ma non solo livello di denaro ma anche perdite di tempo inoltre avevo delle vetrine a Vercelli avevo delle vetrine a Novara ero andato a cercare vetrine a Ivrea a Milano a Torino con un dispendio di tempo immaginatevi correre andare a mettere le inserzioni poi prendi delle televisioni metti dentro la chiavetta fai vedere degli immobili quegli immobili lì nel frattempo erano venduti ricorri chilometri chilometri allora abbiamo detto creiamo delle conferenze facciamo delle conferenze nelle varie città in maniera da poter proporre il nostro mercato immobiliare biellese che è un territorio straordinario ma grazie a questi due video ai alle 5.000 visualizzazioni di un video alle 40.000 del secondo capimmo che il tutta questa visibilità tutto quel lavoro era in tasca h24 di ogni persona era questo telefonino uno strumento eccezionale come tutti gli strumenti gli strumenti eccezionali si è adoperati bene a quel punto bene abbiamo capito che quello era la via quindi iniziamo io mio figlio e tutto il mio staff a fare dei corsi per capire come bisognava fare i video io passavo notti intere a vedere video di colleghi che facevano video su ville su proprietà e li trovavo di una tristezza immane nei corsi andai da un ingegnere che arrivava dagli stati uniti questo ci diede delle direttive molto importanti quindi cominciamo capire come dovevamo strutturare questi video ma lì arrivò un fatto determinante dietro i video ci voleva un social media manager perché tutto il mondo che dietro il video che è oltre quello che poi tu fai e lanci in rete perché lì ci sono delle dinamiche che sono impressionanti così entrò nel nostro staff paolo rizzo che tuttora ha un ufficio ed è qua con noi e collabora con noi praticamente h24 perché dietro lì c'è un mondo incredibile e da grandi impegni ecco che siamo arrivati ad ottenere grandi risultati per noi per il nostro territorio per i nostri clienti che ci onorano della loro fiducia ci danno il loro bene da vendere ma andiamo a vedere cosa è capitato in questi anni cosa è capitato è capitato che i nostri video sono arrivati addirittura in cina e un facoltoso industriale cinese arriva biella pensate che è arrivato in ritardo dall'appuntamento che ci s'han detto arrivato alcune settimane dopo mi dice perdonami ma ero in vietnam dove ho inaugurato il mio ultimo albergo che aveva 400 stanze 5.000 metri quadrati di casino questo per dirvi la potenza di questo imprenditore ma il video è arrivato in cina e lui dalla cina parte viene a biella i nostri video sono arrivati in america adesso poco tempo fa a un americano un certo car abbiamo venduto una proprietà qui nel nostro biellese sono rivasti arrivati in costa rica dal costa rica parte francisco perché voleva comprare villabiglia però purtroppo è arrivato tardi e l'architetto di milano l'ha compratta prima di lui siamo arrivati in russia abbiamo tradotto dei video in russo e poi la nostra grande classe politica lì ci ha tagliato fuori da questa parte di mercato quindi non abbiamo potuto far nulla ma i nostri video sono arrivati a mosca e a san pietroburgo per l'esattezza siamo arrivati in germania e pochi mesi fa abbiamo venduto ad un tedesco una proprietà bellissima nel comune di rosazza siamo arrivati in polonia e un signore dalla polonia è arrivato nel biellese ha comperato case a case code pensate la potenza di questi video siamo arrivati in francia e copriamo tutta l'italia e quindi abbiamo venduto a innumerevoli milanesi bolognesi abbiamo portato gente dal trentino a vedere il biellese territorio straordinario questa è la potenza dei video ma detto tutto ciò vi devo dare dei dati che questi sono i dati i numeri eclatanti pensate che questa villa guardate noi siamo riusciti in una ventina di giorni dal 56 al 25 di febbraio in una ventina di giorni questa casa qua ha raggiunto 117 mila 811 persone calcolate che queste sono quelle che noi chiamiamo le sponsorizzate e qui dietro c'è il grande lavoro del dottor paolo rizzo che ci segue in tutto questo va a vedere le dinamiche va a vedere che ora sono stati visti per quanto tempo stati visti video chi arriva a biella dove dobbiamo perché tutte queste sponsorizzate noi le dobbiamo pagare per noi un grande costo però arriviamo direttamente nella tasca delle persone quindi qui in 20 giorni noi abbiamo raggiunto 117 1811 persone voi pensate con la vostra pubblicità con la pubblicità sui giornali o se mettete in questi grandi siti questi grandi portali che sono stati definiti più grandi cimiteri al mondo se voi in 20 giorni potete raggiungere dei numeri così guardate questa villa che abbiamo in vendita a sordevolo questa villa ha raggiunto noi abbiamo raggiunto 164 mila 30 persone dal 23 di aprile al 29 al 29 di ma dal 23 aprile al 29 di maggio 164 mila e 30 persone chiaramente oltre a questo abbiamo tutte le altre campagne pubblicitarie giornali i vari portali il nostro sito ma questa questo strumento sta diventando per noi lo strumento principale su cui andare a vendere immobile allora qualcuno potrebbe dire sì ma sono tutte dille di pregio no questa ad esempio è una casa che abbiamo in vendita nella collina questa casa qui dal 22 23 di maggio di aprile al 29 di maggio ha raggiunto 92 mila 367 persone ma avete presente la potenza di un video così e che copertura a una pubblicità del genere quindi signori se tu vuoi vendere il tuo immobile devi dargli visibilità negli anni passati io mi ricordo che c'erano grandi agenzie ogni tanto qualche d'una ci telefonava da londra perché loro davano visibilità agli immobili bene in 48 anni di attività di impegno costante noi noi del dello staff abita siamo riusciti dalla piccola biella ad arrivare nel mondo con i nostri video quindi se vuoi vendere casa contattaci parliamone vediamo un attimino quello che stiamo facendo perché oggi puoi vendere casa con noi e soprattutto sappi che io sono qua e ci metto la faccia dal 1986 e per dirtela tutta dal 1976 all'86 in quei dieci anni costruivo case con mio padre nell'86 ho aperto questa agenzia immobiliare quindi credimi in 48 anni di attività della costruzione cose che facciamo tuttora restauri cose che facciamo tuttora alla transazione immobiliare o qualche cosa da raccontare qualcuno adesso potrebbe dire sì bello bel discorso ma tutto questo quanto costa e questo dato è platante perché costiamo molto meno di tantissime catene di grandi che poi vi raccontano la storia no se voi se tu dai la casa la nostra catena in realtà è un grande gruppo per cui tu sei visibile in tutta italia che poi non è vero perché poi ognuno è autonomo e lavora per se stesso noi costiamo come tutte le altre agenzie non ti facciamo pagare nulla se non vendiamo e il video tutto quello che c'è dietro che credimi è un dispendio di denaro enorme perché il dottor paolo rizzo costa ogni sponsorizzata costa tutta la pubblicità che facciamo in rete ha un costo enorme a te non costa assolutamente nulla noi costiamo una commissione come tutte le altre agenzie solo se vendiamo nel momento in cui tu hai concluso la tua trattativa puoi vedere il nostro operato sui vari social ci trovi come abitabiella immobiliare abbiamo creato una community che è biellese territorio straordinario mi pare che lì siamo in 5.000 persone ti puoi iscrivere e lì vedi parte del nostro operato ma soprattutto puoi andare sul nostro sito che www.abitabiella.it che è uno dei primi siti che abbiamo creato noi e che nasce in italia tutto dedicato al mondo dei video tu su ogni proprietà vedrai che c'è il tastino video clicchi lì e puoi vedere il video della proprietà l'importanza di questo sai che cos'è è che la tua la tua casa la tua proprietà catalizza l'attenzione di chi sta guardando non è un grande portale dove vedo la foto di casa tua e mille altre lì c'è una storia viene raccontata una storia della casa come è stata costruita per cui l'attenzione si focalizza sul tuo immobile ecco perché abbiamo in 20 giorni 160.000 persone che vanno a vedere un video e di lì poi portiamo a casa la vendita di questo immobile questa è la nostra sede qui e tutti i nostri numeri mail quant'altro se hai una casa da vendere contattaci noi veniamo gratuitamente ti spieghiamo nei dettagli come lavoriamo come operiamo e tutto quello che faremo che faremo ma sappi che non abbiamo nessun costo a meno che non vendiamo e noi vendiamo bene detto tutto ciò signore abita signori abita gente in movimento dal 1986 iscrivetevi al nostro canale youtube e attivate la campanella così ogni volta che proponiamo un immobile ogni volta che facciamo delle ricerche ogni volta che abbiamo delle notizie voi siete tempestivamente avvisati e se questa presentazione ti è piaciuta spollicione all'insù che noi fa sempre piacere abita gente in movimento signori vivere bene lo diciamo nelle nostre presentazioni vedi vivere bene una questione di scelte se il deciso di vendere casa tua prima la vendi e meglio è e prima tu vivi bene quindi signori questa questa tecnologia eccola qua la te questa tecnologia qui ci sta eccolo qua che lo vediamo qui ci sta permettendo di arrivare nel mondo e con grandi sacrifici con grande impegno siamo riusciti a creare uno staff all'interno del nostro ufficio signori lavora lo studio tecnico lavora un social media manager lavora che si occupa di assicurazioni lavora che si occupa di locazioni lavora che si occupa di vendita del settore immobiliare abbiamo delle imprese degli artigiani dall'idraulico il muratore l'elettricista ditte di trasocchi abbiamo rivenditori di materiali edili di di mobili abbiamo creato uno staff che è operativo 360 gradi nel mondo del settore immobiliare quindi signori se vuoi vendere casa vendi con noi o perlomeno contattaci che ti raccontiamo quello che stiamo facendo che è una storia che dura da 48 anni grazie di aver seguito questa presentazione per biellese territorio straordinario noi di abita sempre in movimento alla prossima attiva la campanella